Ragazzi, siamo tutti sotto le note d'Azienda per l'ultimo match della serata di questo grandissimo evento, epico. Quale tempo ci siamo? Con baci! Leoni, go! Ehi, che criminale, oh! Faccio il suo criminale! Questo assomiglia molto a un 5-5-5, quello di... Il corozzo canale. Faccio il barco, la che ha? Sì, lo fai. Camerano, se non ho fatto capire la maggiore, la parola è sortita, no? Questo lo dico sì, io capisco. Allora, in questa fase di studio, un po' stanza, ci piega lei a rimarcare questa questione. Di materia che ha scassato la micchia con l'annunce, che poi si era messo sotto per dare l'istruzione. Sarà l'ordine! L'abbiamo adesso su Vai! Pulito, pulito! Si stai! Vai, quero' tagli! Sembalo! Vai qua! Mavino ormavino, muavino! Grazie, buongiorno. Paggio, piccolezza, eh? Vai, vai! Vai, Paggio, dai tutto! Vai, Paggio, esplodi! Vai, Paggio, esplodi! Metti la punta fuori! Spacchino! Spacchino! Paggio, non puoi andare tutto sotto! Lui, non fai la tre, bravo! Paggio, ti vogliamo prendere un po' la presa al bordo! Sto a parlare! 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 Fatti ripetere! Mi ci devo capire! Eh, faccio un filiale! Ti faccio! Paggio! Non mi fate ripetere! Speriamo che fosse violenta! Paggio, te lo fai! Paggio, te lo fai! Paggio, te lo fai! Dai, lui, esplodi, si! Cambia tutto! Vai! No, mi pare! Paggio, lei ci! Hubato! Paggio e ci! Tappalo! Allora, se continuate... Madis! Voi? Ma no, no, no. No, no. Se continuate, con questo agosto, la faccio durare 20 minuti. e io non lo posso non cambiare vai 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 bravo dai batta iniziamo a metterci con in più camerale, chi sei? Luca, esplodi! Luca, esplodi! Luca, esplodi! 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 bravo! 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 dai, dai! C'è uno, stai su, stai su... stai su... in meno, immenso, dai! grazie! bravo bravo! ben avvenuto la maraccia del TV ci siamo arrivati Sherman Buongiorno! 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 Troppo tecnico! Andiamo! Lasciate un tasso in sigla! Andiamo! Buongiorno! 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 Dai, su! Sto facendo l'opera della sesta! Lo devi ammazzare! Che bonito! Dai, dai! Dai, dai! Sì, dai! Dai! Calcia col ginocchio e sali! Calcia col ginocchio e sali! In quattro, in quattro, in quattro! Calciano! Continua così! Il basso sulla testa! Non gli fai appoggiare il conto! Non gli fai appoggiare il conto! Mancano otto minuti! Scusalo giù! Bravo! Dai, dai! Dai, dai! Non gli fai appoggiare! Non gli fai appoggiare! Dietro, dietro! Calcio! Calcio! Dai, fai gioco! Calcio! 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 Calcio? Calcio! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.